che cosa fate il 31 di ottobre? il 31? il 31 è Halloween? e beh si è Halloween e mi hanno detto che c'è una band assurda che band? e il progetto ha suonato di pregare cavolo si e dove? a Arpino e bravo bravo da Arpino e tu vai? sicuramente porto pure mia madre ah porti anche i tuoi madre il 31 ottobre voi che cosa fate? io lavoro lei lavora lei è di? e tu ti campi a Pellino ma se la parli del minopolo perchè non ti c'è? però il 31 sapete che c'è il concerto dei PSP? dove? ad Arpino, conoscete Arpino no? la cooperativa Siuscià no? a correre tutti perchè si manca, si balla e si beve si beve, soprattutto si beve, grazie ragazzi siete veramente bellissimi, un saludo a tutti grazie, grazie, vai, ai PSP scusi, salve, lei che fa il 31 dicembre? sto pensando proprio a quello, perchè? devo andare alla cooperativa a Siuscià a vedere i PSP ma mia moglie non vuole venire e perchè mai? non vuole com'è successo? deve divorziare perchè deve divorziare? non vuole venire io gli PSP gli voglio vedere ascoltare i PSP? davvero? io sarò in prima fila perchè sono una grande fan di questo gruppo emergente siamo qui questa sera con gli amici del PSP, un saluto special a tutti quanti voi mi raccomando non mancare ad Arpino perchè è una grandissima serata quindi venite molto, ciao ciao, buona serata a tutti adesso più che mai, si, 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 e quindi lei ti porterebbe da sua moglie per venire a vedere il PSP? si, 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 lo farebbe adesso? si, si, è fantastico questa cosa è veramente in illia, bellissima, bellissima grazie a tutti